Nome, Salvatore Corsello, professione, endocrinologo, segni particolari, è autore di oltre 300 pubblicazioni scientifiche. E questa sera il professor Salvatore Corsello è qui con noi, un altro applauso, benvenuto, bentornato, buonasera dottore. E io ringrazio anche il dottor Stefano Minelli che è un esperto di diagnostica, in diagnostica per immagini proprio della tiroide. E ringrazio anche la paziente già, come dire, sottoposta al primo esame, Maria Antonietta, benvenuta anche a te, perché parliamo di problemi alla tiroide. Pensate, sono 6 milioni le persone che soffrono di qualche problema alla tiroide, ma questa sera noi cerchiamo di capire insieme appunto al professor Corsello e al dottor Minelli quali sono gli esami per capire esattamente come sta la nostra tiroide. Innanzitutto, professore, quali sono i sintomi che la nostra tiroide ci invia per farci capire che c'è qualcosa che non va? Dipende dal tipo di alterazione. L'alterazione può riguardare soltanto la struttura della tiroide, quindi la tiroide può essere ingrossata e allora può essere visibile. Oppure può presentare delle tumefazioni dei noduli, in questo caso alla palpazione, anche il paziente a talvolta sentendosi il collo può avvertire un bozzo, una tumefazione. Poi ci possono essere delle infiammazioni della tiroide, una forma molto comune, virale, spesso stagionale nei cambiamenti di stagione, e la tiroide subacuta, virale, lì c'è il dolore che interessa la tiroide. Più frequentemente invece ci sono delle alterazioni della funzione della tiroide, quindi la funzionalità tiroidea può essere in difetto o in eccesso. Consideri che gli ormoni tiroidei T3, T4, ormoni iodati, e da qui l'importanza appunto della profilassi, con il iodico, col sale iodico, sono essenziali per il nostro metabolismo energetico, quindi intervengono sulla crescita, sullo sviluppo del sistema nervoso centrale, sull'azione del cuore, sulla efficacia dei muscoli, e quindi tutte queste funzioni, tutto questo controllo della nostra energia... È il nostro orologio un po', insomma, comandano tutte le nostre funzioni. Sì, è la nostra centralina energetica. Ecco, quando funziona troppo poco, che cosa succede? Allora, in questo caso si parla di ipotiroidismo, il difetto della funzione della tiroide. Allora, immaginare che tutte queste funzioni sono rallentate, quindi si diventa stanchi, sono lenti, torpidi, si può essere freddolosi, si può essere stitici, la cute può essere fredda e secca, si possono perdere i capelli. Certo, questa è una condizione estrema. All'inizio questi disturbi possono essere piuttosto sfumati, ci può anche essere semplicemente la stanchezza con un atteggiamento depressivo, però anche qui, soprattutto se c'è una familiarità, non bisogna sottovalutare questi sintomi e quindi un controllo della funzionalità tiroidea può essere utile. Ecco, quando invece funziona troppo e poi cercheremo di capire anche che cosa si deve fare, quali esami dobbiamo fare, invece quando la tiroide funziona troppo e cosa succede? Deve immaginare esattamente l'opposto e quindi il paziente diventa nervoso, eccitabile, sudato, può avere palpitazioni, può avere tremori, può avere diarrea, può dimagrire e quindi la situazione è esattamente speculare. Anche lì c'è tutta una zona di grigi e quindi un paziente che diventa un bambino, anche che diventa iperattivo, bisogna sempre pensare, anche in questo caso a maggior ragione se c'è una familiarità, alla possibilità dell'ipertiroidismo. Allora, tutto questo, insomma, si fa una diagnosi attraverso un'analisi del sangue, insomma, le conosciamo un po' tutti le analisi del sangue basate sulla tiroide, però non tutti sanno, insomma, e pochi di noi lo fanno, che bisogna controllare la tiroide attraverso un'ecografia. L'ecografia è l'esame migliore, perché spesso il paziente dice, ma c'è un dubbio, mi faccio un attacco, una risonanza magnetica. Bene, il gold standard dell'esame d'oro per quanto riguarda la tiroide, che è un organo superficiale, è l'ecografia, con le nuove tecniche, con l'ecocolordoppler e l'esame funzionale, analogamente, il TSH, che è, diciamo, l'indicatore perfetto di quanto funziona la tiroide. Io andrei subito dal dottor Minelli, per capire perché, insomma, il dottor Minelli sta eseguendo, proprio lui è lo specialista per eccellenza, un'ecografia sulla nostra Maria Antonietta. Esattamente come funziona, che cosa fa l'ecografia? Allora, l'ecografia si basa su un macchinario che trasmette delle onde meccaniche, quindi degli ultrasuoni, attraverso una sonda a livello del collo e questo ci permette di visualizzare le strutture all'interno del collo. La tiroide è questa chiandola, della quale possiamo verificare volume, struttura, possiamo verificare la presenza o meno di componenti di tipo infiammatorio e possiamo escludere la presenza di eventuali noduli. Quando ora ci siano dei noduli, possiamo verificarne le caratteristiche strutturali, quindi il fatto che possano essere delle formazioni di tipo liquido e quindi delle cisti, o dei noduli solidi. C'è un'evoluzione dell'ecografia, già il professor Corsello lo accennava, l'eco color doppler, perché che cosa ci dà in più? Diciamo che, oltre alle caratteristiche che vi stavo dicendo, quindi struttura solida o liquida, margini, possiamo osservare, attraverso questa metodica aggiuntiva del color doppler che si mostra sullo schermo sotto forma di segnali luminosi blu e rossi, la disposizione e la distribuzione e il numero dei vasi. Quindi questi vasi, se presenti in un numero eccessivo e in una distribuzione particolare, possono essere un segnale di anomalia di un eventuale nodulo. O a livello tiroideo, nella presenza di un numero maggiore di vasi, ci può far pensare a una componente tipo infiammatorio, quindi tiroiditi o morbo di base. Ecco, insomma, ci dà qualche informazione in più. Professor Corsello, se appunto dall'ecografia si evidenzia la presenza di un nodulo, come bisogna trattare questo nodulo? Proprio per non spaventare le persone che sono a casa, no? Perché magari la parola è brutta, però non può essere. La stragrande maggioranza dei noduli sono e rimangono benigni. Vi è una piccola quota di noduli che non è benigna, quindi sono i carcinomi della tiroide, ma altra notizia buona, se la diagnosi è precoce, ed è quasi sempre la diagnosi precoce, si guarisce pressoché sempre. Poi dice il padre eterno che decide. Però, diciamo, pressoché, pressoché sempre. Quindi la maggior parte dei tumori hanno una prognosi straordinariamente buona. Noi, come diceva Stefano Minelli, abbiamo uno scorre ecografico. Oggi, in maniera moderna, noi possiamo individuare delle classi di rischio ecografico. E a seconda delle dimensioni della classe di rischio ecografico, noi possiamo decidere quali noduli devono essere sottoposti alla citologia aspirativa, cioè all'ago aspirato del nodulo tiroideo. Non è doloroso, vero? Non è doloroso in mani esperte, non è affatto doloroso. Mani del dottor Minelli. Bravissimo, o similari. E quindi si entra con un aghetto sottile all'interno del nodulo e il dolore è analogo a quello di un prelievo di sangue. Francamente, insomma, non è veramente doloroso in mani esperte. E qui abbiamo delle classi citologiche di rischio, perché poi abbiamo i nostri citologi che ci classificano. Pensi ci sono di fatto sette classi di rischio e poi il clinico, integrando i dati clinici, la familiarità, il sesso, le caratteristiche del nodulo, i dati ecografici, lo score ecografico e soprattutto, devo dire, il dato citologico, decide quali noduli devono essere indirizzati al chirurgo. Per cui se asportati o meno. Esattamente. Allora, a che età si deve iniziare a controllare la tiroide? Dobbiamo considerare se c'è una familiarità. Quindi lo screening di popolazione oggi viene sconsigliato e noi consideriamo le popolazioni a rischio. Se c'è una familiarità di primo grado per carcinoma della tiroide, si inizia in genere alla pubertà, ma il pediatra viene informato di questa familiarità e può fare la palpazione. Per alcuni rari tumori, i carcinomi, i dollari della tiroide, si inizia invece prestissimo. E quindi è sempre il clinico che decide l'età. Questo è importante. Allora, grazie professora Salvatore Corsello. Grazie a dottor Stefano Minelli. Grazie a Maria Antonietta.